Allora intanto ragazzi siamo tornati qui e c'è una seconda straordinaria puntata con un personaggio che ha spaccato diciamo la verità Caro Parezzo che si chiama Luca Scazzi Ma noi non dobbiamo fare cose con personaggi che spaccano, dobbiamo provare a fare un po' di informazione e far riflettere le persone su quello che accade Ci dobbiamo accendere un minimo di curiosità e poi approfondire, non dobbiamo spaccare, cos'è che devi spaccare? Cosa devi spaccare? Allora ripeto, Luca Scazzi e il suo Canepardo, un barbiere abusivo, è qui presente anche il Canepardo che si chiama, scusa il suo vero nome? Non si chiama Così, non si chiama Non si chiama, è proprio il nome del cane Il nome del cane, benissimo Ma bisogna essere degli idioti, ma chi pensi di essere? Ulisse che chiamava, ma chi cazzo sei? Ulisse che truffò Polifemo dicendo io sono nessuno, ti ricordi? Sì, non si chiama, non si chiama che è qui presente naturalmente accanto a noi Ma ci pensi di essere Ulisse? Ulisse pensi di essere? E io fino a prova contraria ci credo, ripeto, lui sostiene di averlo acquistato in Russia E io fino a prova, finché non c'è la prova contraria dobbiamo credere a questa versione Ma non dobbiamo credere a queste fregnacce, in alcun modo non dobbiamo credere a queste fregnacce Io che provo che non l'ha acquistato in Russia Ma è la verità, l'ho preso in Russia, anzi Lo ha pitturato, è un mitomane che lo ha pitturato il suo cane Ma questo lo dici tu, questa è l'accusa Oggi faremo il processo al Canepardo, il processo a Luca Scazzi Lui tanto tutti gli strumenti per difendersi, anche dalle accuse che gli rivengono i volte di non pagare le tasse Anzi lui difende il diritto a non pagare le tasse, giusto? Ma secondo me chi è che paga le tasse per me non è sveglio Non è sveglio, ah tu dici è meglio non pagarle diciamo Ma io ho gli stessi diritti di chi è che non le paga e alla fine Beh gli stessi diritti, se uno non paga non contribuisce diciamo in teoria, non contribuisce al paese Diciamo al progresso del paese in teoria, no? Sì però chi è che paga le tasse contribuisce anche a finanziare le guerre che ci sono Beh questo però è un ragionamento bizzarro Eh no no, c'è la verità Ma scusami Dove vanno a finire i soldi delle persone che pagano le tasse? Anche in armi, sì certo Eh certo, devo dire la verità Ma perché? Ma io mi rifiuto di pagare le tasse È un argomento fortissimo questo, devo dire la verità Ma che cazzo è un argomento di un idiota Ma lei si cura col sistema sanitario italiano ad esempio? Sì, lei ha già detto Lei usa le strade, usa i semafori Non ci vado mai Quel suo cazzo di cane che non è un cane pardo ma è un cane che lei ha pitturato a cui ha fatto violenza Quando lei attraversa la strada, lei usa i semafori Bene, quei semafori, quelle strade asfaltate sono state asfaltate grazie ai soldi dei contribuenti italiani Quelli vengono fatti, i lavori vengono effettuati con i soldi del bollo che noi paghiamo Eh, tu lo paghi almeno quello, il bollo lo paghi? Il bollo no, quello no Manco quello, manco il bollo Manco quello No, il bollo no Il cazzo paga lei Non paga niente Più si possono levare le tasse, più levati tu Questo è il punto Ma diciamo che non ho bisogno di cosa avrei bisogno io Cioè, perché dovevi pagare? Ma tutto quello che lei usa Le strade, per esempio, le strade che vengono percorse quotidianamente di solito sono il frutto della... Sì, quello sì, l'unica cosa buona Però comunque è meglio non pagare La scuola che non ha fatto, l'istruzione, tutto quello che... lo Stato, lo Stato Fermi tutti, torniamo tra pochissimo col Canepardo, vai musica, musica maestra Allora, volevo prima andare da Stefania da Pavia, poi torniamo subito, eh Torniamo subito con Luca Scazzi e Canepardo, però c'è la Stefania da Pavia, vai Stefania Ma che c'è da dire ancora? Sperta, no, c'è tanto da dire Mi sentite? Sì, ti sentiamo benissimo, dimmi Ciao Stefania Ande c'è a me Crucione, sta roba qua Ciao Stefania, ciao, ciao Allora, ritorniamo col Canepardo Abbiamo stabilito una cosa, questo cane si chiama? Si chiama Non si chiama Non si chiama E tante volte la gente non ci crede Cioè, quando mi fermano le vecchiettine Io penso di come, come cazzo glielo spiega questa che si chiama Non si chiama Vabbè, comunque, si chiama Non si chiama, tutto attaccato Non si chiama, con la N maiuscola Perché è un nome Non si chiama con la N maiuscola Ma che mi caccia il documento Ma questo mi caccia il documento No, no, ce l'ho il documento Il suo documento, sì Il suo documento, sì E dove ce l'hai il documento? Eh, non l'ho portato, ce l'ho a casa C'è il documento? Sì, viene dalla Russia anche il documento Tu l'hai acquistato in Russia L'hai acquistato in Russia Lo hai fatto tu, hai scritto Russia Made in Russia, l'hai fatto tu Born in Russia L'hai scritto tu su un pezzo di carta psicotico Sostengono, gli esperti sostengono Molti esperti che da quando è esplosa questa cosa del cane pardo E su TikTok, eccetera Sostengono che in realtà questo incrocio non può esistere Quello tra, quello lui sarebbe un incrocio tra un Un cane e un leopardo Un cane e un leopardo Leopardo delle nevi Il leopardo ha cavalcato il cane ed è nato il cane pardo Non ha cavalcato nessun cane Invecibile, nessun leopardo L'ho pagato 13.000 euro più o meno 13.000 euro 3.000 euro di esportazione e 10.000 euro il cane pardo Ma pensa che Quante balle No, 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 queste non sono balle Ragazzi, lui dice che non sono balle Abbiamo le prove contrarie? Abbiamo una prova contraria che non esiste il cane pardo Gli esperti che dicono? Che non può esistere Però la maggior parte dei veterinari, esperti di cani Dicono che questo incrocio è impossibile Ma lo sai che mi ha contattato anche il WWF? Eh, e che ti ha detto? Mi volevo offrire 50.000 euro Voleva... Adesso però non mettiamo in capo Non mettiamo in mezzo il WWF No, veramente, il WWF mi ha contattato Voleva il cane pardo Per riprodurre la specie Per fare qualche esame Ma io ho rifiutato Non ho potuto accettare Tu hai rifiutato 50.000 euro? Imbecille Ma lei darebbe un pezzo del suo cuore Per darlo in beneficenza alla società Io non avrei dipinto il cane Io non avrei... Partiamo dall'inizio Uno, io non avrei dipinto il cane Io non l'avrei chiamato in quel modo ridicolo Ma questo, figuriamoci, è legittimo Io non avrei raccontato in giro la balla Che in Russia un ghepardo Ha fatto l'amore con un cane Ed è nato quella roba lì Un leopardo, attenzione Un leopardo Un leopardo Un leopardo Un leopardo Un leopardo Un leopardo Però la cosa è smentita da chiunque, caro amico mio La cosa è smentita da chiunque Ma no, no Cioè, qualsiasi esperto dice che un leopardo Non si può ingroppare un cane per produrre poi un cane pardo Ma certo Dai, su, cioè No, no, no Questo è il punto Com'è che ti è venuto in mente, però adesso di comprare Mettiamo, io voglio credere a questa cosa Com'è che ti è venuto in mente di comprare questa cosa? Perché sei ossessionato dai cani, dalla bellezza dei cani Perché hai fatto questa roba? Perché ho avuto l'opportunità di prenderlo Mi hanno fatto vedere questo cucciolo di cane pardo Mi è piaciuto e l'ho preso E l'hai preso Sì, ma perché? Perché hai la fissazione? Ma perché mi piaceva proprio il modello Sì, non si chiama, non si chiama Allora, abbiamo qui una rappresentante del mondo animalista Bianca in auge, attivista animalista Buonasera, che è abbastanza sconvolta, devo dire la verità E anche indignata Perché vede che il cane faceva dei movimenti strani, giusto? Sì, vabbè, a parte che in questo momento è completamente stressato, trema Ma la domanda che io Stressato, stressato La domanda che io mi sto facendo da ora è Se il signore ha dei suoi problemi O si è costruito un personaggio Deve mantenere questa linea Perché darla a bere Che è un cucciolo nato tra un cane e un ghepardo Leopardo Leopardo È follia Quindi lui si autoconvince di questa cosa Perché non vuole ammettere che Ha esposto, ha strumentalizzato un animale Per crearsi evidentemente un personaggio Perché è questa Cioè, secondo te lui ha dipinto L'ha dipinto questo qua? Certo che ha dipinto, assolutamente Ma anche della dermatite È certo Lo dipingo ogni tre mesi con la bomboletta Metto lo stampino poi con la bomboletta Oltre il fatto che gli ha pure tagliato le orecchie Quindi Mi metto la mascherina di gas Non si chiama Ma la dipingo così Ma secondo te Ma posso mai dipingere un cane? Quello si muove Ma 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 che cosa È una barzelletta Ma ci sono i centri purtroppo che Lo fanno Basta che paghi Ad oggi fai tutto Cioè tu stai dicendo una cosa Che lui ha dipinto Ma Oggettivamente Ma ovvio che ha dipinto Ma ce l'ho davanti agli occhi Ma ragazzi Ma dai Ma non esiste Un cucciolo Cioè è un maltrattamento Questo? Questo è un maltrattamento Assolutamente sì È un maltrattamento Vero e proprio Da denuncia Da denuncia Certo assolutamente La risposta è Subito Immediata Cosa fanno Gli animalisti Nello Stato? Cioè qual è il ruolo Gli animalisti Esistono per le figure Come te A rompere i coglioni Alla gente come te E togliere gli animali Alla gente come te Che ha dei problemi Mentali Evidenti E riversa Sugli animali Che c'è tra guardia giurata? Perché secondo me Vale meno della guardia giurata Perché la guardia giurata Quando lavora Dorme sempre in macchina Tutte le volte Ma adesso Non attacchiamo le guardie giurate Che sono le grandi ascoltatori Bisogna attaccare Le guardie giurate Ma le guardie giurate Fanno un lavoro preziosissimo Sono davanti Ai posti sensibili Spesso vengono A dormire Ma vergognati di questa cosa Le guardie giurate Ma come Cazzi Ma perché attacca le guardie giurate? Attacca così A cazzo le guardie giurate Perché dovrebbero valere meno Gli animalisti delle guardie giurate? Spiegami Eh perché Dove ti è venuto questa tua Perché secondo me Animalista non ha un ruolo statale Cioè cosa fa? Ma tu cosa fai? Tu cosa servi in questa società? In questo modo? Io sono un barbiere abusivo Taglio i capelli alla gente Ti sei risposto da sole In più strumentalizzi un animale Strumentalizzi un animale Perché tra l'altro Ho curiosato anche il tuo profilo Prima adesso Mentre attendevo Perché non sono riuscita Nemmeno a stare nella stanza Con il signore Perché Stavo studando Cioè mi viene male A vedere una persona Che può ridurre Un animale In questa condizione Felicissimo sto cane Felicissimo Sì Non si chiama Ma è da tre ore Che piange Che cerca attenzioni Tra di noi Ma è normale Perché siamo Poi Un fantomatico Collare di corda Orecchie tagliate Vogliamo continuare Cioè io lo togliere Gli andrebbe tolto questo cane Subito Ma certo Ma non è un cane Tra l'altro Stavo dicendo Ho visto il profilo Ma che è questo rumore Scusate Ma che è questo rumore È lui che piange il cane E non ti chiama E non ti chiama Aggiungiamo Il fatto del nome Ma tu Miagola Una persona Che lo chiama Non si chiama Scusate Avvicina un po' Il microfono al cane Così per far sentire Un attimo Questo miagolio Non lo fa sempre Non lo fa sempre Non lo fa sempre Se lo fa di nuovo Te lo faccio sentire Miagola È proprio un miagolio Perché è un 60% felino 40% cane Ecco Luca ma tu sei andato mai Da uno psichiatra Esatto Hai mai visto Una figura Professionista Secondo me Tu hai delle Questo ragazzo non andava Dallo psichiatra Andava a mignote Di solito Come? Ok Cosa c'entra? Non c'entra niente Però va bene Perché secondo me Meglio andava a mignote Che andare dallo psichiatra E però secondo me Tu ne hai bisogno Io lo scazzi Ne hai bisogno Vieni qua Non ti chiami Ma mettiti seduta Aspetta Volevo dire un'altra cosa Fermala Adesso torniamo Fermala Fermala Ehi Le guerre E dunque è meglio Non pagarle È giusto Non pagarle Perché si finanziano Le guerre Questa Questa è la prima perla Della sera La seconda Perché andare a mignote È meglio andare a mignote Piuttosto che andare Dallo psicologo Giusto? O sbaglio? Questa è la seconda perla Conferma Gli animalisti Terza perla Valgono meno Delle guardie giurate Nella società Ma Ma chi è le guardie giurate? Sono d'accordo Perché le guardie giurate Sono da proteggere Ma ci ha chiamato Intanto molto incazzato Con dei messaggi Che mi ha mandato Enrico Rizzi Che è un altro Dei nostri animalisti Di riferimento Enrico sei incazzatissimo Non ho sbaglio Guarda sono incazzato Ma questo signore Mi sta ascoltando Sta in diretta adesso Sì è qua Certo assolutamente Ah perfetto Allora io propongo A questo signore Che fa il fenomeno Sui social Adesso viene pure Radio a fare Il fenomeno Ci diamo un appuntamento Ci incontriamo Vediamo in che condizioni È questo cane E vediamo se Se è maltrattato Non è maltrattato È male chi è Scusa Perché devo fare Il cane palato Scusa Ci conosciamo No perché se tu Fai il fenomeno Sui social E fai il coglione Sui social Utilizzando un povero cane Allora se ti metti In pubblico Devi avere il coglione Di metterti in piazza Davanti alle persone E ti chiedono Di sapere Come sta questo cane Sono andato a Venezia Con il cane libero Nessuno mi ha detto niente Tu sei coglione E sei un uomo Con la U maiuscola Dai un appuntamento Agli animalisti A chi ha cuore Ma perché ti devo Dà sa soddisfazione E allora sei un codardo E allora sei un codardo Ma io che ci guadagno Cioè qual è l'obiettivo Di prendere l'appuntamento Con gli animalisti Che a me mi fanno schifo Tu sei un malato mentale No però scusami Tu sei un malato mentale Ti devi curare Allora posso dire Se sei un uomo Ti faccio un invito pubblico Se sei un uomo Ti faccio un invito pubblico Porta il cane Porta il cane E dimostra a tutti Che il cane sta bene Ma lo devi fare in piazza Con gli animalisti Che tu li ritieni Come hai detto Che siamo malati Che cosa ha detto Prima Giuseppe Ha detto che gli animalisti Valgono meno Della società Delle guardie giurate Però ha detto anche Che fanno schifo Se tu hai i coglioni E sei un uomo Tu queste frasi Le devi ripetere A chi per ora Ha incazzato nero con te Per il modo con cui Stai trattando il cane Però lui Scusa un attimo Tu lo stai spingendo Ad avere un confronto Quasi fisico Con un animalista Che lui non conosce Che viene fisico Ma io nemmeno i capelli Ti voglio tagliare Eh? Ma nemmeno i capelli Ti voglio tagliare Dice non vuole tagliarti Nemmeno i capelli Non vuole tagliarti Manco i capelli Io ho detto Questo imbecile patentato Ho visto che stai facendo Stai ottenendo visibilità Con il tuo carico Ma ognuno Ognuno tiene visibilità Con quello che vuole Tu lo tieni facendo la battaglia Perché gli animalisti Che fanno? Lo devo dire Che fanno gli animalisti? Che fanno? Allora il 90% Degli animalisti Hanno il quotiente intellettuale Dell'uomo di Neanderthal Se lo dobbiamo dire Cogliosi Vieni piazza a dire queste cose Ma non fare il fenomeno dietro un telefono Non abbiamo davanti Vieni piazza a dire queste cose Ma che c'entra? Vieni piazza a dire queste cose Invecile Qualcuno dice piazza tranquillamente Ma che c'entra? Se è un codardo Se questo è un codardo No Giuseppe sta dicendo di no Io gli sto facendo un invito pubblico Giuseppe Vediamoci sotto Radio 24 Voglio vedere Stai le palle Di ripetere quello che stai dicendo Ma guardate che lui Un confronto qui lo fa Non sotto Radio 24 Un confronto in radio Lo fa tranquillamente Risponde a tono Ma che cazzo è? La camorra Che vuol dire? Incontriamoci fuori Se tu fai delle accuse Ad una categoria In questo caso Quella degli animalisti Che si battono per i diritti Degli animali Se tu sei uomo Devi avere il coraggio Ma dipende Lo fanno solo A scopo economico Gli animalisti Ma tu sei un coglione Tu sei un perfetto coglione Però scusami Ma come ti permetto? Ma svegliati Però scusami Enrico Tu non credi al fatto Lui sostiene di essersi comprato Questo cane in Russia Dalla Russia Ma questi mi stanno accusando Senza che io ho fatto niente Veramente Cioè da essere contenti Che c'è un cane pato in Italia No mi accusano Povero imbecille Però scusi Ma si tratti quel cane Come se sei un oggetto Ma cosa stai dicendo? Cioè secondo te Maltrattamento Questo è un maltrattamento animale Questo qua Certo Questo cane in un paese normale Andrebbe sequestrato domani mattina Giuseppe In un paese normale Porca miseria E poi io notavo E questo è il problema Che questo stupido Si può permettere di fare Quello che sta facendo Perché siamo in un paese di merda E questo è il problema Ma non diciamo cazzate Dove è stupido Scusa non ho capito Non ho capito Scusami Luca Lui ha detto una cosa Molto concreta Tu ribadisci E ribatti Dicendo che Dovresti essere Gli animalisti Dovrebbero essere contenti Che esiste questa razza nuova Ma certo Quello dico io Dovresti essere contenti No ma accusano Non ci credo Dicono che dipingo il cane Ma che so Van Gogh Ma stiamo scherzando Mica è una tela Ma mica è una tela Che la dipingono Ma le altre Dove cazzano la sua Io questo No ma più che altro Io vorrei capire Il veterinario Che ti segue Penso che Se tu ci tieni al cane Farà dei controlli O no Lo porti a fare dei controlli L'hai portato Ha avuto due tumori L'ho operata È sterilizzata Due volte Sì è sterilizzata L'ho sterilizzata poco Quando ha avuto i due tumori È il veterinario Che ti dice Che ha queste macchine È il veterinario Che ti segue Io vorrei capire Cosa dice Del fatto che tu Tieni un cane In queste condizioni Ma quali sono le condizioni Pitturandolo Ma non è Ancora Ma lui sostiene Di averlo preso Dalla Russia Ma lui lo sostiene E si è molto convinto Di questa cosa Ma è lui Che lo pensa Nessuno Forse non ha capito Che nessuno ci creda Questa cosa Però un'altra perla Che ha regalato Rizzi È non sono mica Sono Van Gogh Devo dire Che è una perla eccezionale Ce lo dipingo Effettivamente per fare La documentazione La documentazione di questo cane È certo Al di là del trattamento indegno E io ti fai Se tu non hai nulla Da nascondere Visto che ripeto Ti stai esponendo Non è che ti siamo venuti A cercare noi Tu ti sei esposto Sui social Come ha detto La ragazza Prima che non so il nome Tu ti sei comunque Esposto sui social Per non so Per fare il personaggio Io dico per fare il coglione Ma questo è il mio pensiero Allora io ti sto facendo Che ragazza è un mezzo pitbull Sembra quasi un pitbull È un pitbull Ma per me è un pitbull Per me è un pitbull Però va bene È un pitbull Di 10 anni Bisogna stare attenti Ma se mi angola ha Ma mi angola ha Mi angola dice che mi angola Ma tu hai svegliato Ma la senti quando mi angola Ma tu puoi curare È un cane Ti senti che dai non è A questo qua Che facciamo una segnalazione Ma io non faccio niente Io non faccio niente Pensaci tu Michele da Roma Fermi Michele da Roma Dimmi Michele Dimmi Sì Cruciani ciao Senti Io propongo una posizione Invece le fa E dipinge quel cane Poraccio Io non so l'imbecille Che dipinge una cosa del genere Lui non dipinge Dice che non dipinge La socialità La socialità Di questi deficienti Favo una petizione Scazzi dipinto alla zanzara Scazzi dipinto alla zanzara E poi voglio vedere Se ride Che significa Perché il cane Si vede Che sta messo male Non è un cane Vardo Non è venuto dalla Russia Eh ma questo lo dici tu Questo lo dici tu Naturalmente Questo lo dicono tutti Ce ne è che lo dico io Una petizione Scazzi dipinto alla zanzara Ma guarda che sei Ma guarda che sei Ma guarda che sei Ma guarda che sei Io voglio vedere Insieme al tuo cane Pardo Che è una cazzata Perché non è Non esiste il cane Pardo Ma che ne sei tu Cioè quello è lui Sostiene Ma non hanno fatto Nessuna 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 Secondo me no Anche perché È l'unico Esemplare Per una volta Sono Sono D'accordo Con Parenzo Quindi questo è Tutto dire Comunque ragazzi Ragazzi Le chiacchiere Stanno a tagliare Nessuna 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 Rivista Scientifica Si parla di Care Pardo È una stronzata Di questo Idiota È tutto qua Vabbè ragazzi Direi che abbiamo Concluso Che c'è da dire Ancora Non ho capito Vuoi denunciare Pure tu Che vuoi denunciare No vabbè Sicuramente in questa Cosa andremo a fondo Anche noi Come associazione Perché Non esiste Anche perché Persone così Ma che ve ne frega A voi Ma che ve ne frega Il cane sta benissimo Il cane sta benissimo Che lo seguono Che poi Prendono esempio Da queste cose Perché siamo una società Malata di interdetti Prendono esempio E iniziano a fare A loro volta Ulteriori E tu per esempio C'hai un canile Adesso vuoi salvare 200 cani Che canile è Non ho capito Dove gli prendi I soldi del canile Chiediamo alla signora Tesoro mio Li metto Di tasca mia Il domanda per cento Delle Degli animalisti Hanno il quotiente Intellettuale Dell'uomo di Neanderthal L'altro dieci per cento Hanno canili E chiedono fondi Infatti non è mio Il canile Guarda qua Guarda che si sta avvicinando Guarda che si avvicina Guarda che si avvicina Metti di seduto Quell'altro ragazzo Ma che fa Che fa sui social Comunque tu vuoi salvare 200 cani Ma occupatevi dei bambini Non dei cani Occupatevi dei bambini Mi occupo anche dei bambini Ad ogni modo Voglio lanciare Un messaggio Ai veri amanti Degli animali Veri Come dice lui Con la B maiuscola C'è questo canile Il canile che sto seguendo È un canile Di Piacenza Dove ci sono Più di cento cani In cerca di una casa E quindi Seguite la pagina Rifugio invisibili Occupatevi dei bambini Non degli animali Non dei cani C'è chi si occupa di qualcosa Poi c'è chi non si occupa Di niente Fermi tutti Fermi Ciao canepardo A presto Mi raccomando Avanti tutto Ciao Vedete Su un nuovo crafter Abbiamo fatto Allora Nell'intervallo Di questa disgraziata Trasmissione Il mitologico Luca Scazzi Che porta con sé Il canepardo Il leggendario Canepardo Scusami Il leggendario Canepardo Il leggendario Luca Scazzi Con il suo canepardo Mi spiegava Che in realtà Lui spopolava Un anno fa Poi in quest'ultimo anno Diciamo che Ti abbiamo risollevato Anche un po' Noi In questi giorni Dalla tua popolarità Ti abbiamo ridato Un'altra botta Di popolarità Un'altra spinta Ricordiamo che Fai il barbiere abusivo Giusto? Fai il barbiere abusivo E sei orgoglioso Non paga le tasse E mica scemo E mica scemo La risposta Tra perla Ma è una cosa pazzesca E sostiene Che questo canepardo Che si chiama Non si chiama Che ha come appellativo Non si chiama Sia stato acquistato Dalla Russia Questo è il punto Ed è meglio Andare a Mignotte Che andare dallo psicologo E poi proseguiamo ancora Con l'altra perla Di stasera Gli animalisti Sono peggio Delle guardie giurale Che però io difendo Perché le guardie giurate Fila prova contro Non l'hanno fatto Non si capisce Come termine dispregiativo Perché proprio Le guardie giurate Che peraltro Hanno la nostra simpatia Ma non è quello il tema Assoluta Assoluta simpatia Perché non sopporti Le guardie giurate Ma perché dormono Quando io vado Io vado a vedere I posti abbandonati Io faccio urbex Vado a vedere I posti abbandonati Quando io vado a vedere I posti abbandonati Li trono nelle macchine A dormire Sempre Una volta Sono andato da uno L'ho svegliato L'ho bussato Sulla spalla Ho detto Ti svegli Ho detto Ma qua posso entrare Abbandonato Ho detto Da dove sei entrato Con gli occhi tutti chiusi No ma adesso da dove sei entrato Con gli occhi chiusi E appannati Ma ti vuoi svegliare L'altra cosa Incredibile Cioè prendono i soldi Dormendo Tu sei sposato Tu sei sposato Perché non ne parliamo Sono sposato Con una donna musulmana Come musulmana Eh sì Ho scelto una musulmana Perché Perché Volevo fare l'ultimo tentativo Pensavo che la donna musulmana Sì Fosse più all'antica Cioè perché volevi La donna all'antica Perché volevo Che facesse le pulizie in casa Pensavo che poteva avere tre mogli Cosa dice Questa poi è venuta in Europa E è diventata Europea Cioè è veramente Uno scandalo Una delusione Ma ha fatto Un scemo di primo livello Questo No questo mi ha fatto una truffa Ma ha fatto Ma Cioè La donna che è venuta qui E si è emancipata Ha fatto una truffa Ma questo dove l'hai trovata Ma che è Checcozzalone questo Guardi la verità Che è il mitico Checcozzalone Numero uno Questo è Checcozzalone Cioè tu veramente Hai sposato Perché c'hai la fede C'è Vera Gemma Che saluto Applausi Che sta fisciando sotto Nelle risate Applausi Applausi Saluto Parenzo Ma questo è Checcozzalone Di la verità Salve Parenzo Ma interrompiamo Questa noia Con questo strano personaggio Che noia Io sto dire Stavo ridendo come una matta No no Sto ridendo come una matta Però è anche un po' Vagamente inquietante Sia lui che il suo cane Aspetta un secondo Completiamo però il discorso Sulla moglie iraniana Che è interessante Cioè tu l'hai sposata Perché facesse la donna di casa Facesse tutto No? Eh sì Occhio e cellulari Con la moglie iraniana Occhio al telefonini E invece alla fine A casa Veramente E' uno scandalo Adesso devo fare Il cambio guardarobbe Devo chiamare mia madre Dalla basilicata La devo far scomodare La devo far salire Sopra Ma fatelo tu imbecille Il cambio guardarobbe E che faccio abbassare Il livello dell'uomo Ma stai scherzando Ma signor scazzi Ma questo è il gioco Devo chiamare mia madre Dalla basilicata La devo far salire su Per fare il cambio Ma perché non ti separi Allora Se non è di tua soddisfazione La donna Se parati La stai che abbiamo pure Litigato l'altro giorno Te credo Che la tratti come una schiava Abbiamo litigato No abbiamo litigato Per altre cose Fermi tutti Musica Per cosa avete litigato No beh a questo punto Allora Caravera Caravera